Lick, ben ritrovati, cari venturi di Lusola Barchaccio, ma che Bologna è stato ragazzi, ma che Bologna è stato, Bologna 2, Roma 0, risultato che ci va anche ampiamente stretto, abbiamo surclassato sul gioco, per occasioni, la Roma di Mourinho che certo, come avevamo raccontato, aveva delle importanti lacune, specialmente in attacco per le defezioni di Lukaku e di Dybala, ma il Bologna è stata troppa roba, e fatemelo dire anche in presenza di quei due, secondo me questa sera la Roma avrebbe lasciato le penne ugualmente davanti a questo Bologna di Tiago Motta, che è stato coraggioso e adesso ne dobbiamo sottolineare oltremodo l'elodia, mettere in campo la formazione che ha messo in campo quest'oggi, con innanzitutto Ravaglia in porta, scelto, non per l'acciaccato, perché da quello che so, meno che non ci venga a dire adesso ai microfoni che fosse così, ma la scelta tecnica ha messo in porta Ravaglia, che ce lo ricordiamo tutti proprio due anni fa, 13 dicembre 2020, in panchina c'era Mialovic, chissà che non sia stato scelto, anche per questo per ripagare l'onta che si subì, quel giorno dove il Bologna venne schiantato dalla Roma per una cinque, quest'oggi con Ravaglia in porta, se 17 dicembre esattamente dunque, tre anni dopo se non erro, il Bologna riporta le cose come devono essere, e dunque Tiago Motta ha avuto questo coraggio nel premiare, dunque Ravaglia, che l'ha visto allenarsi sempre molto bene, e ha avuto il coraggio di confermare Nicola Mori, io l'altra volta pensavo che ad esempio con la Serenitana Ebbice non giocasse dall'inizio perché era diffidato e volesse essere sicuro della sua presenza contro la Roma, evidentemente invece non era solo per quel motivo, ha visto una Roma in difficoltà anche per le defezioni che aveva, allora anche oggi bisognava impostare, a creare il gioco perché si sapeva che la Roma ci avrebbe lasciato il palino del gioco in mano, e con Nicola Moro si sa impostare, uno che sa fare incursioni, guarda caso chi è che fa il gol dell'1-0, Nicola Moro. Oggi Tiago Motta le ha beccate tutte, se, e l'avevamo raccontato perché noi qua diciamo solo la verità, avevamo posto un dubbio, che poi era una paura, un timore, che quest'oggi con la scelta di Ravaglia soprattutto Tiago Motta avesse sbagliato la formazione, bisogna, e io per primo lo faccio, rimangiarsi tutto perché Tiago Motta non trasforma in oro tutto, trasforma in platino le cose, e anche oggi tra l'altro Ravaglia non sono andati in campo, ma è stato sontuoso, ma è stato sontuoso. Oggi ad esempio Rui Patricio da una parte che è stato per anni il nazionale numero uno del Portogallo, e dall'altra Federico Ravaglia che ha spento, penso di ricordare, potrei sbagliare, abbia dieci partite in Serie A come titolare, insomma uno dice non c'è paragone, eppure oggi il vero portiere è stato Ravaglia. Che giocatore oggi che è stato Ravaglia in Porta, granda roba. Voglio sotteniare oltremodo altre cose, Nicola Moro dunque si sta ritagliando spazi, sta facendo molto bene, d'altro canto con Tiago Motta tutti stanno facendo molto bene, basti pensare a Endoyer, che da un punto di vista della corsa, del dribbling, delle percussioni, è un giocatore che non lo fermi mai, ma il problema è che c'ha i piedi montati al contrario, si è visto ad esempio sull'azione che ha portato il gol del 2-0, il tuo gol di Christensen dove l'aveva toccata all'inghietto, voglio sperare magari per l'occorrente Zirzè, ma era a due metri dalla porta, magari la voleva mettere in avanti, ma c'ha i piedi montati al contrario, l'ha passata all'inghietto, carambola e gol. Quest'oggi si è andata bene, ma in un'altra occasione, mi dicono essere fuori gioco, ma era davanti da solo a Rui Patricio e l'ha messa fuori da solo davanti al portiere. Vabbè, comunque non lamentiamoci ovviamente perché Ndoyer ha fatto una partita fenomenale, che come ha detto un in live, se solo avesse la conclusione sarebbe un giocatore ampiamente da Real Madrid, e sottoscrivo, perché Ndoyer ha tutto, peccato che non abbia la roba conclusiva, ma quest'oggi non possiamo neanche lamentarci più di tanto sotto questo versante, perché l'assist per Moro è venuto proprio da una genialata di Ndoyer sulla corsia di destra, e dunque voto ben più che ampiamente sufficiente per il nostro Ndoyer. E continuando l'escursus, prima di dare le pagelle, voglio sottolineare come sul gol del 2-0, ho visto l'abito quasi essere alla ricerca di un segnale da lavare per poter appigliarsi a qualcosa, per annullarlo, ma non si poteva fare niente, anche perché da quello che so, Nascar, non era stato disegnato nella Vare, quindi... Però, 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 la combinata grossa è lo stesso, Guida andrà sotto traccia perché non se ne parlerà mai spellere inizialmente il Lucumì per poi togliere l'espulsione perché è nettamente in fuorigioco, che anche qua mi chiedo, hanno gli occhi montati all'indietro quelli che devono guardare le linee perché da qui alla prima vista, ho subito detto, stiamo tranquilli perché è fuorigioco, ma la cosa che mi ha fatto comunque incazzare è vedere l'arbitro Guida che dà rosso diretto per Lucumì perché rio di aver toccato la spalla dell'avversario che ha fatto così e... Ah, vostro Signore, ah... Mi ha ricordato, mi ha ricordato Falcone nell'area di rigore all'ultimo secondo con il Lecce. Quelle porcate, che c'è qualche d'uno, in più di uno in tv, che continua a dire rigore netto e rigore solare, quelle porcate che non finiranno mai di esistere, quelli sono delle porcate arbitrali dettate dal momento perché il portiere è andato in attacco, perché siamo all'ultimo minuto, eh, vostro Signore avevamo già penalizzato il Lecce alla volta prima con il Milan, dai che non lo possiamo penalizzare un'altra volta, dai che dopo tutto l'ha toccato, dai che dopo tutto è caduto, come una prugna dall'arbero che cade da tre metri, eh, ma come fai a non darlo? Ma ragazzi, ma avete mai giocato a calcio? Non puoi cadere se uno ti tocca una spalla così, mica gli ha fatto, mica gli ha fatto così, così! Ma ci avete mai giocato a pallone? E tornando alla partita di oggi, adesso non mi ricordo chi fosse, ma come fai a gettarti a terra? Ma soprattutto il giocatore può anche provarci. Ma come fa una terna arbitrale a combinare un rosso per un fallo che non è fallo, per un fallo del genere? Ma bisogna essere proprio marci dentro, bisogna proprio cercare il motivo, il nodolo della matassa, il bandolo della matassa, per cercare di rimettere sui binari una partita, anche perché, lasciatemi dire, come fai a non espellere in almeno due circostanze differenti, dove c'hai solamente l'imbarazzo della scelta, Mancini, che in una tira una scarpata in testa a voler far male, a voler far male, l'avversario che era tra l'altro Zipzè, ma anche se fosse stato Tommaso Corazza, qualora avessi giocato, non puoi dare una scarpata in testa e farla franca, beh Mancini ci può, Mancini gli è concesso. Porcata assurda, ovviamente Guida e il VAR non hanno visto niente. Bella porcata, bella porcata, bella porcata, tra l'altro Gianluca Mancini nemmeno ammonito. Non è quello che dice, magari hanno scambiato il... No, no, nemmeno ammonito. Vostro Signore, partita impeccabile di Gianluca Mancini. Guarda, una vergogna di difensore che non dovrebbe essere il permesso di calcare, secondo me, sui campi professionistici. Una vergogna. Comunque, tornando e chiudendo parentesi per questo fomento, perché poi a me è quella cosa che dà fastidio. Sapete cos'è? Che poi mi si viene a dire quando magari si pareggia e si perde per dei presunti, no, torti, perché parli perché hai perso. No, no, come vedete, io oggi ho vinto 2-0 e sono incarognito, incarognito più di altre volte che magari ci hanno pareggiato alla fine. Queste qui sono delle porcate e a me le porcate non piacciono. A me le porcate non piacciono. Ad esempio, nel secondo tempo, sul finire Indoieca da terra in area di rigore della Roma e io ho detto, e lo ribadisco, non è rigore. Io i rigori li voglio se sono rigori. Non voglio i rigori inventati. Che siano a favore e che siano contro. Bisogna cercare di ottenere onestà intellettuale. Detto questo, inizio da Tiago Motta questa sera se lo merita otto e mezzo. Otto e mezzo per il coraggio anche, ragazzi, che coraggio. Tiago Motta, sei un signore allenatore. Ravaglia ha voto sette, sette pieno, perché anche l'intervento che ha fatto su Belotti che gli è andato il fuorigioco, ma non era fuorigioco e quindi, casomai avesse fatto gol, sarebbe stato convalidato. intervento veramente della Madonna, sette piena Ravaglia, grande prestazione. Chiedo scusa a Ravaglia, chiedo scusa a Ravaglia per aver avuto dei brutti pensieri ad inizio partita. Faccio il mea colpa, chiedo scusa a Federico Ravaglia, bravo ragazzo, sei anche di Bologna, bravo ragazzo, due volte e anche tre. Christensen, voto sei e mezzo, sei e mezzo perché comunque oggi seppur a fase alterne ha provato a spingere in fase difensiva è stato anche lui come tutta la difesa impeccabile, praticamente la Roma non si è quasi vista e bisogna bisogna premiarli. Poi certo non ha rubato l'occhio, però sei e mezzo è il minimo quest'oggi, il minimo, oggi il minimo è sei e mezzo. Posh sei e mezzo, anche lui, stesso discorso di Christensen, magari non ha rubato l'occhio, però impeccabile. Calafiori sette, secondo me la Roma si mangia le mani da avere Gianluca Mancini da loro, visto che Calafiori era loro e oggi vedere una prova di Calafiori, altro che questo è un gran giugador. Beochema, Beochema sette, oggi premio tutte e due perché hanno fatto secondo me diciamo dai Calafiori un po' di più, sei e mezzo barra sette a Beochema che poi è stato tolto perché era stato ammonito, Remo Freuner sette, oggi ha fatto una prestazione sontuosa, ditemi che non è così, ditemi che non è così, Tagli Cucci, difesa attacco, propositivo, difensivo, arringhava, bravissimo, forse poteva anche dargli sette e mezzo, Nicola Moro, Nicola Moro, gli diamo a lui sette più, sette più, sette più, sette più, bravo Nicola Moro, bravo Nicola Moro, adesso molti mi verranno a dire, Luisona potevi dargli sette e mezzo, sette più, sette più, sette più, bravo Nicola Moro, Nicolina, Nicolino così mi piaci, bravo, bravo, hai trovato l'altra dimensione, continua, continua, ascolta, non ti avevo molta, in Doier voto sette e mezzo, in Doier sette e mezzo perché oggi non lo prendevi, oggi non lo prendevi, ha trovato anche dico il gol perché ha trovato l'imbocata dell'assist, sette e mezzo, qualcuno mi dirà perché non gli ha dato otto, io sapete che sono un po', per fare, ok, sette e mezzo, giustissimo, giustissimo, non stiamo ad esaltarci, ad esaltare dei voti perché siamo del Bologna, diamo i voti per quel che si mette, sette e mezzo, sette e mezzo, bellissimo voto, bellissimo voto, se le makers, oggi ha rubato un po' meno l'occhio, ma forse è meglio così, all'inizio della partita si è fatta morire, se comunque si è dato, non ha rimediato, Rossi vista anche la situazione arbitrale, che sei e mezzo, il voto più basso oggi, sei e mezzo, non andiamo sotto a sei e mezzo, Ferguson, prova sontuosa, sette e mezzo, è un po' sfortunato, ultimamente deve raddrizzare la mira, ma sette e mezzo, io glielo do perché è un giocatore imprescindibile, quasi mi ha fatto scalpore che alla fine della partita l'abbia tolto, non lo fa mai Tiagomotta, ma Zygze, tanta roba, io oggi voglio, guardate, perché poi uno dice, dai voti, perché ha fatto gol, perché io oggi do a Zygze 8, secondo me Zygze, è stato il migliore in campo, poi si può essere d'accordo, non d'accordo, Indoglie ha fatto meglio, Fraule, ok, Nicola, ok, per me oggi Zygze, ma ha fatto una prova di qualità, di quantità, di bellezza, ma quanto è bello Zygze, quanto sei bello, e non parlo di estetica, possiamo metterci anche l'estetica, ma de gustibus, a me l'estetica ad esempio non piace, ma quanto sei bello, in altre circostanze, in altre vite, in altri sessi, ti si sarebbe anche trombato, va bene caro Zygze, 8 a Zygze, chi è entrato e poi tagliamo e ci sentiamo domani per appunto il commento a bocce fredde con gli interventi anche dei protagonisti, ragazzi, siamo quarti, Lucumì, 6 e mezzo, Ebischer, 6 e mezzo, Licojannis, 6 e mezzo, Fabiano Urbanschi, senza voto, ragazzi, che Bologna, siamo quarti, godiamo, che Bologna, che Bologna, è al contrario, ma fa le stasse, è al contrario ancora, ma fa rila stasse, non so se sia la dritta, forse sì, che Bologna, siamo quarti, grande Tiago Motta, grande Bologna, che prestazione, domani, adesi qui, iscrizione, condivisioni, è Natale ragazzi, è Natale, lasciatelo il like, ok, ci sentiamo domani, alle prossime, chiacchia da bar, che Bologna, quarti, Bologna, sontuoso, wow, wow,